Let's go butchers e benvenuti a questo commentary sul gameplay di cui vi avevo parlato in cui mi era capitata una partita bellissima Solitamente io gioco sempre in solo frattura, è una delle modalità più divertenti secondo me Sfortunamente non ho tanta egg skill perché stendo uscito da poco non ci sono riuscito a giocare molto Mi pare ho tipo sul 28 forse, mentre invece su controllo ho ben 44, vabbè ma controllo c'è anche dal primo giorno Comunque volevo fare un bel commentary su questa partita e parlarvi di un po' di cose Parlarvi comunque di ciò che mi viene in mente in questo commentary, per prima cosa qualcosa riguardante il mio futuro Allora per prima cosa butchers vi voglio parlare di una cosa, molti di voi mi chiedono Power ma tornerai a fare competitive? Tornerai a giocare a fare tornei? Allora vi voglio parlare di questo principalmente, questa è la prima cosa che mi sono prefissato di parlarvi Allora dovete pensare per prima cosa che io ho quasi 23 anni, li farò a novembre Quindi mi raccomando fatemi gli auguri il 22 novembre se non mi incazzo E il 22 novembre io farò 23 anni E quello che vi voglio dire è che non si può giocare per sempre per fare tornei Sperando che un giorno facendo tornei possa diventare un vero e proprio lavoro Per diventare un vero e proprio lavoro bisognerebbe essere pagati mensilmente Ma non basta avere una sorta di paghetta se si può dire così o di qualcosa di simile Perché non si può accampare con questo, io comunque ho anche studiato E ovviamente mi sto muovendo per cercare lavoro nel campo di quello che ho studiato Cioè nel campo di progettista o comunque aiuto architetto eccetera eccetera Quello che vi voglio dire è che praticamente il futuro da giocatore è molto difficile qui in Italia Non abbiamo sfortunatamente le strutture, non abbiamo gli investimenti, non abbiamo gli sponsor Come vedete ci sono sempre meno filiali di quelli che sono i grandi nomi che vengono aperte qui in Italia Guardate come SteelSeries e Razer praticamente non esistono più Se no non fanno diciamo qualcosa agli eventi Cioè fanno gli stand agli eventi solo per pubblicizzare qualcosa La maggior parte degli introiti che invece viene a questi stand Vengono proprio da quelli che sono i giocatori famosi del PC Che vengono pagati ovviamente per presentare il loro marchio sulla propria maglietta Diciamo sui propri social eccetera eccetera E molti giocatori comprano queste cose proprio perché li usano questi giocatori pro Proprio per sentirsi più simili a loro, più vicini a loro eccetera eccetera Questa cosa in Italia per quanto riguarda il PC funziona abbastanza bene Come sapete la maggior parte delle periferiche più vendute sono Razer, SteelSeries, Rocket eccetera eccetera Però comunque questa qui va, ci sono anche la parte comunque dei giocatori che le compra Perché magari ci sono buone cose che vendono questi, diciamo, queste società che vendono hardware Ma quello che vi voglio dire è che praticamente, scusatemi sono ancora raffreddato Non è facile riuscire a guadagnare in questo ambiente se sei un giocatore Specialmente qui in Italia E mi sono state fatte molte proposte in questo periodo E ce n'è una di cui Call of Duty potrebbe diventare veramente un lavoro per me Non si tratta di giocare, ve lo voglio subito dire Non si tratta di fare YouTube streaming, si tratta di qualcosa di oltre Non si tratta nemmeno di fare un lavoro da ufficio all'Activision o a qualche società simile Si tratta di qualcosa sempre nell'ambiente competitivo che spero andrà Specialmente sono molto casato per questa cosa La proposta che mi è stata fatta è veramente bella Perché sinceramente non me l'aspettavo, sono rimasto a bocca aperta Poi tra l'altro sono due in verità le proposte Uno da un mio amico, l'altra invece da una persona che comunque lavora in questo ambiente da anni E quello che vi voglio dire è che mi piacerebbe tornare a giocare competitive Veramente è sempre un'emozione giocare ad un torneo davanti a voi E tutte le emozioni che si mischiano dalla delusione alla felicità È una cosa fantastica Sfortunatamente però penso ogni tanto anche a quelli che sono i lati negativi della nostra community Al fatto che la nostra community è così frammentata Così menefreghista riguardo al cercare di migliorare quello che è la situazione in Italia Gli importa solo del flame, di fare casino Non si sa stare assieme, non si sa lavorare assieme Soprattutto non si sa portare avanti un progetto Si preferisce avere la pappa pronta Che poi la pappa pronta in verità fa schifo Perché come vedete finora non è successo niente di che Sin da Call of Duty Ghost che le cose sono andate sempre di più peggiorando E quello che vi voglio dire Non seguite i classici stereotipi degli italiani che giocano a Call of Duty Quelli che fanno casino Quelli che vanno là solo per creare casino tra le persone Quelli che invece giocano solamente per rompere le palle agli altri E dirgli quanto sono forti loro e poi non vanno nemmeno ai tornei Se voi giocate competitive e volete giocare competitive La prima cosa che vi dovete mettere in testa è di andare alle LAN Di dover spendere dei soldi di tasca propria Io pure le mie prime due LAN mi pare io me le sono pagate di tasca mia Ma perché questo? Perché non si può pretendere di essere pagati Anche se siete i più forti del mondo Dovete prima dimostrare E lo so che molte volte è difficile rimediare questi soldi Ma se veramente ci tenete, se veramente ho una passione Se cazzo giocate 7-8 ore al giorno e ci volete provare Fatelo questo sacrificio E vedete che magari facendovi vedere Riuscirete magari a fare qualcosa in quest'ambiente A farvi riconoscere da quelli che sono anche i grandi team O magari proprio il vostro team si farà riconoscere Come è successo agli AR all'ultima LAN di Legnano Che tra l'altro mi dispiace per loro Poi si sono sciolti Ora si sono un po' persi Chi sta in un team Chi sta in un altro Chi non gioca più Chi fa altro Eccetera eccetera Comunque fidatevi di me Questa è una cosa che dovreste tutti fare Seconda cosa Alla base di questo C'è l'umiltà e il rispetto per i compagni Che è quello che manca praticamente al 99% di questa community Mi raccomando Tenetevi questa cosa Comunque è una cosa che io riscontro in qualsiasi community Sia in Italia Ma proprio in generale In qualsiasi gioco qui in Italia Perfino su Destiny Non c'è un minimo Cioè le persone nuove vengono denigrate Come succedeva su COD Le persone nuove Anche se sono brave Non vengono cagate Perché secondo loro devono dimostrare qualcosa Se dimostrano qualcosa è sempre per merito di altri O comunque per merito Non proprio Ma comunque di aver copiato O di fortuna Eccetera eccetera O che gli altri sono più forti E quindi ti potranno battere quello che hai fatto O hai avuto solo fortuna in quel momento E durerà poco la tua felicità Non c'è il supporto dei propri connazionali Che questa è una cosa bruttissima E quello che mi dico io Allora Perché allora sei qui a scrivere in un gruppo italiano? Perché sei qui a fare flame? Però non ci si può fare niente Le cose vanno così Quindi bisogna Cioè il mondo è bello perché è vario Quindi bisogna Prendere atto che ci sono persone del genere L'importante è Non abbattersi Continuare sempre su questa cosa Sul proprio Cioè sul proprio modo di fare le cose Impegnarsi E fare le cose Come Cristo comanda proprio Dando il massimo Si può finalmente comunque Riuscire a tirare fuori Tutte le proprie potenzialità Io è quello che sto facendo attualmente su Destiny Perché è un gioco che mi piace Mi diverte tantissimo La cosa che poi mi piace di Destiny È la relazione tra me Il mio guardiano E la storia del gioco Il fatto di battere Personaggi che nel gioco Vengono raccontati come epici Come dei Come altre cose È divertentissimo Mi fa sentire un po' nel mondo Com'era World of Warcraft Dei personaggi che fanno parte Comunque del Diciamo Della storia di World of Warcraft Di quelli che sono i libri Di quelli che sono I giochi vecchi di World of Warcraft Quindi Questa è una cosa che mi piace tantissimo Specialmente il fatto che Questi personaggi Comunque c'è sempre un rimando a loro Nel Grimorio In questo caso Al fatto che il mio guardiano Ha sconfitto quel nemico Quell'arma trovata Che ha una relazione Con quello che è successo 400 anni prima In quell'evento In cui c'era Quell'altro nemico Cioè sono queste le cose Che mi piacciono anche di Destiny E poi il fatto che il mio guardiano Il mio modo di giocare È totalmente mio Sono io che mi creo Il mio modo di giocare Ovviamente non è che I modi di giocare I talenti Le armi Eccetera eccetera Sono infiniti Ognuno usa i migliori che ci sono E molte volte risultano simili Però quello che Alla fine esce fuori È una sorta di Unicità Come si può dire Del proprio personaggio Del proprio Charakter In questo caso Mamma mia Qui che headshot incredibile Che ho fatto a questo Col col coltello Comunque Io spero vi sia piaciuto questo gameplay Ora vedrete quanto ho fatto Quanto è il radio Di questa partita Che ho giocato in solo E niente bitches Questo è quello che mi piace di Destiny Il fatto di esplorare Un mondo completamente aperto Di trovare Le quest prima di altri Cioè le missioni Prima di altri Di trovare armi esotiche Prima di altri Di recensirle Cioè è questo che mi piace Che mi appassiona di Destiny Di trovare nuove armi Scoprire nuove cose Andarmi a spulciare il lore Comunque guardate i miei compagni di squadra Quanto hanno fatto schifo Hanno proprio succhiato E vabbè bitches Siamo arrivati alla fine del video 50 kill 12,5 Di radio uccisioni morti Io spero vi sia piaciuto questo gameplay Io spero vi sia piaciuto Questo commentary Mettete un like Let's go bitches Ciao Do you say piaciuto questo? Ciao